Usain, ma come? Proprio tu! Hai fatto tanto per darmi fiducia e adesso ma... Ma ti ricordi quello che mi hai detto? Certo. Chiunque può cambiare se impara a credere in sé e può far cambiare le cose. Ed è vero, io sono cambiato, ma anche loro però, guardali. Te li ricordi prima? Adesso c'è una nuova luce nei loro occhi, qualcosa è scattato dentro di loro. Sì, è così. Io ho sentito come un click. Ho sentito come un click, 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 click. Ed una luce di fiducia si è accesa dentro di noi. E spende più che mai. Tutti abbiamo la lampada, prima o poi ce la fai. Tante lampade magiche, a ciascuno la sua. Quando hai voglia di farcela, prima o poi ce la fai. È una formula semplice se tu le sorridi, la vita sorride con te. Prova, prova che volerai, se ci credi tu volerai. Vola, vola che ce la fai. Vola, vola, vola che in alto fai. Vola, vola che ce la fai. Vola, vola, vola in alto fai.